Sono Davide Ruvolo, responsabile commerciale dell'Aria Sud Italia per Renzini, una società Umbra di Umbertide, nonché di Norcia. Ovviamente si fanno prodotti particolari, salumi soprattutto, e abbiamo anche un'azienda di vino pugliese di Alberobello, Albea. Il prodotto di punta è il più storico, diciamo che è la sella di Mastrodante, che è appunto un prodotto speziato, è un prosciutto crudo, se vogliamo chiamarlo così, è un prosciutto crudo speziato con delle spezie di pepe rosa e nero, quindi è un prodotto allettantissimo perché vediamo che risponde bene all'utenza che sta venendo qui a trovarci in fiera.